Ciao a tutti i ragazzi da San Giacomo. Ciao Gabri, Silvia, Roberto, Samantha, Marti, Greta, Paolo, ciao a tutti. State bene, noi stiamo bene, non vedo l'ora di ricominciare col San Giacomo, vi voglio bene. Un grosso saluto e un abbraccio dalla vostra amica Francesca, ciao ciao. Mi manchi voi e amici, ragazzi, e volontari, San Giacomo, ciao a presto, un bacio. Io sono Mario, spero stiate tutti bene, volevo dirvi che mi mancate tutti, che mi manca il gruppo GHSG. Lo vedremo a settembre ancora insieme. Ciao, saluto a tutti, ci vediamo. L'unico viaggio che faccio è la scala, dalla cucina alla sala, ciao ciao. Ciao a tutti, andrà tutto bene? Ciao. Ragazzi, come state? Io sto bene, adesso vi mando un video, quello che sto facendo. Inseparabili, sempre e comunque, un abbraccio. Sono fiducioso e spero che a quanto prima riusciremo ancora a trovarci e a divertirci ancora tutti insieme. Spero che ci vediamo per qualche giorno e che faremo tutti insieme il fine e poi questa cosa. Ho detto tutto. Ciao. L'emotività virtuale è sempre importante, cioè cerchiamo in tutti i modi di tenere contatti, di mantenere l'ottimismo. Ci vedremo presto, torneremo a divertirci. A tutti gli amici, compagni, volontari, ragazzi del gruppo N di San Giacomo. Speriamo davvero presto, resistiamo. Un abbraccio. Ciao a tutti. Resistiamo e pensiamo a quanto sarà ancora più bello ritrovarci dopo tutto questo tempo. Un abbraccio a tutti. Un bacio. Ciao. Io sto bene. Ciao a tutti. A presto. Un saluto a tutto il gruppo Andy. Ciao. Ciao a tutti.